parliamo della frutta e della verdura anche dei cesti natalizi e vogliamo farlo con il nostro esperto perché lo chiamo frutti vendolo simone mencarelli dell'oreana frutta che è di arezzo allora quando si dice frutti vendolo io ripensa quando ero bambina dove si andava a comprare la frutta dal frutti vendolo vabbè poi i tempi passano e cambiano eccetera e quindi la troviamo anche in altri anni ma frutti vendolo rimane ma il frutti vendolo è rimasto e devo dire che la peculiarità del frutti vendolo è unica freschezza qualità almeno per quello che riguarda noi cerchiamo di e territorialità e territorialità sì salvo qualche caso particolarmente sporadico in questo momento natalizio che chiaramente l'ananas le arance quelle sono sempre arrivate dal sud d'italia ecco nel periodo local nel periodo natalizio in particolar modo siamo nel fiore della produzione le arance più buone sono diciamo tra da novembre a diciamo fine fine inverno e quindi sicilia calabria e puglia la fanno sicuramente da padrone per quello che riguarda le arance fondamentalmente anche quando perché un frutti vendolo è importante perché prima di tutto ci sono dei 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 frutti di vegetali che non conosciamo e non sappiamo nemmeno coppola con cari perché voglio dire questo è il radicchio di treviso tardivo di treviso ora se io prendo questo tardivo di treviso se già ha quel gusto amarognolo bellissimo poi è rosso e quindi anche a livello funzionale del nostro organismo è veramente protettore del nostro cuore però come andrebbe consumato meglio ma la diciamo che la la sua caratteristica migliore è far in griglia oppure un risotto o anche una lasagna eccezionale perché se lo metto nell'insalata a me piacerebbe anche l'insalata è buono anche in insalata ma diciamo che è un po più duro rimane un pochino più amarognolo e quindi magari grigliandolo un goccio del nostro olio buono un po' di sale ecco fatto che anche può essere già un secondo piatto con la scamorza io lo faccio anche con la griglia tutto insieme che è buonissimo con un po' di gorgonzola ad esempio quindi nobilitiamo le verdure anche mentre invece se prendo questo è un radicchio un radicchio rosa di Verona altra altra particolarità che viene su dal nord Italia perché per i radicchi loro sono specializzati sono bravi questo prevalentemente è un radicchio da insalata molto più morbido molto più meno amaro bellissimo anche da vedere secondo me perché un'insalata mista visto che tante verdure dice non è che si consumano tanto no perché dice sai però andare dal fruttivendolo e mischiare anche tanti colori e farsi consigliare potrebbe essere l'occasione giusta perché io non ho esperto di cominciare a consumare anche più verdure sì sì un bel pincimonio un bel perché a noi piace anche fare ad esempio dei dei cesti solo di verdura perché danno tanto colore danno tanta gioia gioia sì a me poi i colori piacciono perché bisogna essere anche un po' positivi dato anche il momento quindi sì ma la verdura e la frutta ogni colore è un anti age perché i sali minerali le vitamine antiossidanti sono proprio all'interno di questo cesto di radicchio ma sono anche le nostre carote per non dire i pomodori ora guarda io prendo i pomodori no perché qualcuno potrebbe dire sì ma i pomodori ora e invece perché proprio ora perché perché questi pomodori sono prodotti di pachino pachino anche questo ha la particolarità di avere i pomodori quando dalle altre parti non esistono e viceversa perché quando da noi ci sono i pomodori nelle zone di pachino per conformazione geografica e per posizionamento chiaramente non lo consentono quindi la stagionalità è sicuramente al centro poi ovviamente se io vado a prendere questo cesto perché guardate che io personalmente mi arrivasse una cassa di frutta a casa anche solo d'arancia sarei felicissima guardate che idee regalo per Natale perché sempre di più si usa regalare qualità e anche cibo da consumare e colore anche perché è anche bello da vedere perché ci abbiamo metti caso questa pera qui questa è una pera che è stata introdotta nel mercato non molto tempo fa è una pera di alta qualità buonissima dolcissima e qui la cera lacca per evitare che il frutto intanto per far vedere che è un prodotto di qualità perché sul prodotto si nobilita esatto tra virgolette che è di scarsa qualità non vanno a spendere per mettere la cera lacca esatto per di lavorazioni e veramente questo è un prodotto che com'è questa pera? la tu mi hai chiesto di scrivere acida, dolce dolcissima, dolcissima è stata questo è un passion fruit è infatti maracusa perché per Natale dobbiamo regalare anche frutta esotica sì perché c'è l'ananas che ormai voglio dire però questa questo è un frutto buonissimo questo in particolar modo come l'ananas noi privilegiamo il frutto che viene fatto maturare nel paese di origine e poi viene spedito in aereo in aereo 2-3 giorni dal momento, 4 giorni dal momento del raccolto viene nei mercati quindi ne guadagna tantissimo il gusto perché è maturato questo è un cedro bello guardate c'è la melagrana cioè possiamo fare un cesto come vogliamo allora noi i cesti li facciamo, non li preconfezioniamo ci mettiamo d'accordo con il cliente in base alla richiesta del cliente in base anche a quella che è la richiesta del consumatore finale perché magari a me se qualcuno me lo vuole regalare ci metteteci tutto che mi piace tutto quindi se vai a delle persone magari che non prediligono i frutti tropicali o i frutti esotici magari si può fare anche un bellissimo cesto con dei pinsimoni però dicevo è il gusto di fare un dono personalizzato poi ci sono anche le ciliegie ora non sono di stagione però volete mettere che a Natale fanno colore che sembrano delle mini palline di Natale mi piace anche quando vengono qualche mamma con qualche bambino regalarla a qualcuno al bambino perché poi mi vedi il sorriso e quindi è bellissimo ho cercato ma non ci sono quelle doppie perché io quando ero bambina me le mettevo qui all'orecchio per fare gli orecchini effettivamente sono quelle cose preziose vengono selezionate una a una per il calibro, per la qualità comunque la cosa importante è capire che il fruttivendolo è una professione allora deve essere una persona della quale ti fidi perché poi chiaramente spetta a noi meritarsi la fiducia del cliente ma può consigliare quello che vale la pena prendere al momento e quello che magari conviene non prendere o per qualità del prodotto perché troviamo qualità, freschezza, consigli per poterlo consumare prodotto locale prodotto locale e non solo perché in questo periodo dell'anno regalare un cesto di verdura o di frutta diciamo che è una cosa unica e personalizzato la cosa importante allora ringrazio il nostro fruttivendolo si chiama fruttivendolo Simone Mencarelli dell'Oriana Frutta che si trova in Viale Dante ad Arezzo grazie grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te